Cambia la geografia industriale di Chiusa di Ginestreto con l'ampliamento di una delle aziende più importanti del territorio. Scavolini infatti può allargare la propria capacità produttiva grazie all'ok alla variante arrivato dall'ultimo consiglio comunale che porterà alla edificazione su un terreno verde di nuovi capannoni per l'azienda di cucine che, per quel che riguarda la parte coperta, avrà altri nuovi 13.000 metri quadrati. Una nuova area in parte di competenza anche del comune di Montelabate su cui Scavolini vuole cominciare a costruire prima possibile per disporre della nuova struttura entro il 2023. La trasformazione di un terreno agricolo in industriale è stata esaminata dal comune che ne ha valutato positivamente l'impatto ambientale e di consumo del suolo di fronte ad una edificazione reputata sostenibile e con importanti ricadute occupazionali, motivo per cui non si sono trovate grosse opposizioni nel consiglio comunale di Pesaro. Questa è una variante molto importante, una variante importante anche in termini di metri cubi. Si tratta di una nuova edificazione su un terreno verde. Questo è stato molto ben analizzato in commissione e per quanto l'impatto ambientale c'è ed è oggettivo, si è studiata tutta una serie di compensazioni, quindi l'imbarianza idraulica, quindi la tematica dell'area verde rimessa a disposizione e anche tutta una serie di piantumazioni che sono azioni positive e che abbiamo ritenuto importanti. In ogni caso si tratta di un investimento importante, di un'azienda importante nel nostro territorio e questo ovviamente è una valutazione anche a prescindere dal nome e dal cognome di quella che è la società, ma ovviamente è stata fatta una valutazione tecnica e urbanistica da un lato e politica sulle opportunità e sulle scelte dall'altro. Abbiamo valutato in modo positivo perché questa edificazione che comunque all'interno di una serie di altri edifici, di altre opere urbanizzate porterà al territorio un grosso valore aggiunto e inoltre per come è prevista questa espansione, si tratta di un'espansione rispetto a un edificio già esistente, quindi con una linea di produzione che ha bisogno di una contiguità, quindi non era pensabile di poter dislocare questa capannone, questa parte produttiva in un'altra area. Quindi la valutazione è positiva e siamo contenti che ci siano imprenditori che riescono a continuare ad investire sul nostro territorio per portare sviluppo e posti di lavoro sul nostro territorio.